Buongiorno, sono Simona Bianchini, ho 51 anni e sono mamma, figlia imprenditrice. Ho avuto in dono questa azienda la mia SPA da mio padre che l'ha costituita 60 anni fa e oggi vede me e mio fratello Marco al timone e al governo di questa impresa. La mia SPA ha un fatturato di 120 milioni di euro, 300 dipendenti e 50.000 clienti attivi, fra pubblici e privati. Qual è il nostro fare imprese e qual è il nostro business? Quello di vendere tutto quello che fa parte delle spese generali del mondo del lavoro. Quindi vendiamo prodotti per ufficio, prodotti di pulizia, dispositivi di protezione individuale, arredo ufficio, noleggio operativo di tutto quello che è l'information technology, dal pc al computer alla stampante e a tutto quello che ci immaginiamo nell'ambito informatico. Non ultimo tutta l'attività di comunicazione istituzionale, non dalla gadgettistica a tutto quello che è la parte di tipografico e di abbigliamento da lavoro personalizzato. Oggi e nel tempo il nostro fare impresa ha sempre visto tre punti salienti, quello dell'ecosostenibilità partendo da un assortimento di prodotti ecologici. Oggi più del 10% dei nostri prodotti ecologici. Nel 2011 abbiamo installato sul tetto del nostro impianto logistico un impianto fotovoltaico che oggi ci consente di dire che tutto quello che facciamo è con energia pulita. Oltre alla sostenibilità, il welfare e la cura dei nostri dipendenti e collaboratori è un punto assolutamente saliente, partendo da un fatto anche se vogliamo economico, quindi progetti di premialità legato al raggiungimento degli obiettivi, quale soddisfazione del team e dell'azienda. Ma facciamo anche progetti di benessere psicofisico. Gli ultimi, che ne voglio citare alcuni, sono quelli con fluxo partner del territorio che vede trainer specializzati in attività sportive, che eroga servizi di attività sportive all'esterno, dove la maggior parte, il 50% dei nostri dipendenti, ha aderito lo sportello dello psicologo, l'azienda Felice, che ha visto un confronto con una serie di professionisti nell'ambito medico proprio per accompagnare e condividere con i nostri dipendenti quelle che sono le fasi della vita e come cambia il nostro umore, la nostra salute, i nostri bisogni man mano che il tempo passa. Tutto questo ci ha portato a essere un'azienda sempre più efficace e sempre più efficiente e anche ad ottenere tutta una serie di certificazioni dalla parità di genere alla 14.001, alla 9.001, alla FSC. E oggi possiamo dire, e posso dire con grande orgoglio, che siamo un'azienda italiana leader nel nostro settore, grazie ai nostri collaboratori, al nostro team, che è sempre ingaggiato al raggiungimento degli obiettivi.